Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione su Telefriuli. I luoghi procedono regolarmente senza alcun intopo i lavori per la realizzazione in comune di Fontranna Fredda della nuova RSA di Sereni Orizzonti. La vicenda giudiziaria che ha colpito l'azienda non ha interrotto la normale attività in ciascuna delle sue 80 strutture né ha compromesso la solidità economico-finanziaria dell'intero gruppo che resta in grado di mantenere tutti i suoi impegni. Nel cantiere di Viale dello Sport gli operai stanno ultimando il getto del secondo solaio e dentro il mese di novembre avranno ultimato il getto in cemento armato dell'intera struttura così come l'impermeabilizzazione del solaio di copertura. Al tempo stesso sono in fase di ultimazione le opere di urbanizzazione esterna. Il termine dei lavori è fissato per aprile e la nuova struttura potrà entrare in funzione entro la fine di giugno 2020. La guardia di finanza di Trieste ha scoperto una truffa ai danni dell'ANAS che ha coinvolto due funzionari dello stesso ente pubblico dieci le persone denunciate per truffa aggravata a falso ideologico in atto pubblico e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Sette persone indagate anche per falso coinvolte tre società sequestrati 640 mila euro nei guai due dirigenti dell'ANAS che avrebbero ricevuto prebende per 65 mila euro da un imprenditore triestino. Sono i numeri dell'operazione strade salate dalla guardia di finanza di Trieste che ha fatto emergere un diffuso sistema di frode illeciti nell'esecuzione di appalti per servizi di manutenzione. Strade pronto intervento, sgombero, neve e spargimento di sale. La stazione appaltante ANAS SPA è risultata truffata per oltre 500 mila euro. Il disegno criminoso sarebbe stato realizzato grazie alla collusione tra il direttore operativo della partecipata pubblica e l'amministratore di una SRL, Triestina Paltatrice. Sarebbe stata sistematicamente gonfiata la rendicontazione di lavori e interventi della SRL grazie a una doppia contabilità decodificata poi dagli investigatori per non farsi fuggire tutto l'importo fissato dal bando di gara la società triestina ha infatti consuntivato ad ANAS le attività di manutenzione sulle strade regionali, numero ben maggiore di quelle realmente eseguite. L'ammontare complessivo dei reali costi sostenuti è risultato sempre inferiore all'importo di aggiudicazione della gara. A fronte dei guadagni conseguiti in maniera indebita, l'amministratore della SRL avrebbe pagato mazzetti al direttore operativo e a un altro dirigente dell'ente per aver chiuso gli occhi dinanzi agli illeciti perpetrati sotto forma di ristrutturazione di un appartamento, forniture, e posa in opera di finestra e installazione di un impianto di riscaldamento per 65 mila euro. 10 denunciati a vario titolo, gli amministratori della SRL e altre due imprese subappaltanti funzionari pubblici di ANAS per concorso in truffa gravata, falso ideologico in atto pubblico e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Mia figlia e le altre vittime devono avere giustizia, speriamo che questa sia la volta buona. Le parole della madre di Elisa Valent, che commenta così l'apertura del processo per la strage del bus Erasmus, nella quale persero la vita 13 studentesse in un tragico incidente in Catalogna. Dopo oltre tre anni e tre archiviazioni, si riapre una speranza di giustizia per le famiglie delle 13 studentesse che il 20 marzo 2016 persero la vita nella strage del bus Erasmus a Freginals in Catalogna. Tra loro sette ragazze italiane, compresa la friulana Elisa Valent. Il colpo di scena è arrivato ieri. La Corte d'Appello di Taragona, infatti, ha accolto l'ultimo ricorso dei parenti delle vittime e ha deciso che si celebrerà un processo per stabilire le responsabilità della tragedia. L'imputato, accusato di omicidio colposo, è l'autista del Pullman, un 62enne che stava effettuando la tratta da Valencia a Barcellona. In un primo momento, ai soccorritori aveva confessato di essersi addormentato, ma poi aveva ritrattato. Per questo, finora, i giudici spagnoli avevano stabilito che non ci fossero elementi sufficienti per processarlo. Non era ammissibile che queste ragazze fossero responsabili della loro morte. Qualcuno è sbagliato e qualcuno deve essere responsabile. Queste ragazze devono avere giustizia e quindi io sono un pochino più sollevata, sinceramente. È una magra consolazione, certamente, perché Elisa manca. E quindi è una magra consolazione. Però, come ho sempre detto, devono avere giustizia. Non si sono suicidate, sono salite su quella maledetta corriera, però non è stata colpa loro della loro morte. Ecco, questo era quello che noi puntiamo. Per noi l'importante era che non venisse archiviato nuovamente, perché dopo tre archiviazioni noi avevamo questo dubbio. Infatti, noi siamo stati col fiato sospeso fino a ieri, finché non abbiamo avuto la certezza di avviare questo processo. Qualcuno ha provocato questo incidente e quindi questo qualcuno dovrà rispondere. Continuano i controlli della Polizia Stradale di Udine sui conducenti dei mezzi pesanti. Nell'ultima settimana gli agenti hanno scoperto che un guidatore aveva manomesso il cronotaggrafo digitale, che dunque segnalava un'attività diversa da quella svolta. A particolare attenzione è stata posta ai camionisti con il piede pesante. La Polstrada ha sanzionato 91 violazioni per superamento dei limiti e 21 per velocità pericolosa. Spicca la multa nei confronti di due conducenti di mezzi pesanti che trasportavano mergi pericolose e superavano il limite di velocità lungo il cantiere dell'A4 all'altezza di Polpetto. Uno di questi viaggiava anche con il veicolo sovraccarico e quindi oltre alla sanzione gli sono stati detratti quattro punti dalla patente. Sessa sorta è toccata a un altro autista che trasportava gasolio e sulla stessa tratta effettuava le stesse violazioni. Carabinieri del Comando Provinciale di Trieste hanno effettuato un servizio di controllo del territorio tra il 26 e il 27 ottobre. Sono stati controllati oltre 35 veicoli e 76 persone. Denunciato un cittadino rumeno per maltrattamenti in famiglia, un cittadino bosniaco per porto abusivo di coltello, un cittadino italiano per disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone. La Polizia romena ha dato esecuzione a un mandato di arresto europeo a seguito di un ordine di carcerazione messo dalla Procura della Repubblica di Udine nei confronti di una cittadina romena di 34 anni. La donna deve scontare 4 anni e 6 mesi messa a seguito da più condanne disposte dal Tribunale di Udine per un furto in abitazione, per esistenza e lesioni di pubblico ufficiale. Infatti i fatti si riferiscono al marzo del 2015. San Daniele del Fiuli insieme ad un complice aveva robato in una casa approfittando dello stato di difficoltà di un uomo di 73 anni invalido. Si era impossessata con destrezza di una catenina ad oro e di diversi orologi sempre in oro. Il Consiglio regionale ha approvato oggi a maggioranza con 25 sì contro 19 no la delibera di integrazione per il referendum per la modifica della legge elettorale che mira all'abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali. Infatti la Corte di Cassazione aveva richiesto tale integrazione che ora vedrà presente nel quesito la trascrizione letterale di tutte le disposizioni di legge di cui si propone l'abrogazione oltre che la ridenominazione della delibera. Un atto meramente ricognitivo, ha detto Diego Bernardis della Lega relatore di maggioranza ma relativa ad una proposta referendaria di chiara e netta valenza politica. È stato inaugurato oggi a San Vito al Tagliamento nella zona industriale Ponte Rosso il rinomato stabilimento di Bormioli Farm che con l'installazione di una nuova fornace e di due nuove linee produttive incrementa la propria capacità operativa. L'investimento ha visto un impegno finanziario di oltre 20 milioni di euro. Tutti gli approfondimenti con le voci dei protagonisti nel corso di A Voi la Linea è intanto un estratto dell'intervista all'assessore dell'attività produttiva Sergio Emidiobini. Buongiorno da San Vito al Tagliamento. Siamo in compagnia dell'assessore Sergio Emidiobini perché oggi qui in zona industriale Ponte Rosso c'è un'inaugurazione importante, quella di Bormioli Pharma che inaugura un nuovo forno e due linee produttive. Un investimento di oltre 20 milioni di euro, 50 posti di lavoro per un'azienda che produce packaging farmaceutico che è il leader in Italia e nel mondo. Assessore, assolutamente importante un evento come questo. Una giornata importante per un'impresa importante. Io colgo l'occasione davvero per ringraziare questa azienda, questa importante azienda per aver creduto, per continuare a credere nel Friuli Venezia Giulia. Gli investimenti di questo tipo non sono all'ordine del giorno, ma soprattutto io vorrei sottolineare la possibilità, l'opportunità che verrà data a queste 59 persone, il che significa 50 famiglie del Friuli Venezia Giulia che verranno aiutate e sostenute. Quindi un applauso da parte dell'amministrazione regionale all'impresa, agli imprenditori per quello che hanno fatto. Un investimento importante che aiuta tutto il distretto del vetro che si sta creando qui a San Vito al Tagliamento e che è un'eccellenza a livello veramente mondiale. E' un distretto che sta crescendo in maniera importante con dei numeri significativi, delle marginalità significative. Per l'ennesima volta il Friuli Venezia Giulia e questo distretto ha dimostrato di essere, come dire, leader in un settore produttivo e di questo ne beneficia l'intera nostra regione. Allora, grazie all'assessore Sergio Midiobini, assessore regionale delle attività produttive. Poi nel corso di A voi la linea, dalle 12.45, vi racconteremo e vi faremo sentire altre voci qui dall'inaugurazione di Borgnoli Farma a San Vito. Il nodo di interconnessione tra la A23 e l'A4 a Palmanova rimarrà chiuso nelle ore notturne dalle 21 alle 5 fino al 31 ottobre per consentire l'ultimazione dei lavori del sovrapasso che collega la Tarviso-Udine al tratto di autostrada in direzione Trieste. Chi transita sulla A4 provenendo da Venezia diretto verso Udine e Tarvisio deve uscire a Palmanova per poi rientrare allo stesso casello e rimettersi in A4. Per domani notte dalle 22 alle 4 è prevista anche la chiusura dell'autostrada in direzione Venezia-San Giorgio e la Tisana per lavori di rifinitura del nuovo cavalcavia di San Giorgio di Nogaro e per la realizzazione della segnaletica in vista dell'allargamento delle tre corsie. E' stato presentato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Pordenone la scuola in ospedale progetto regionale che consente ai minori ricoverati di poter continuare a studiare sostenuto dalla regione, dal comune di Pordenone che ha messo a disposizione 20.000 euro per le attrezzature informatiche oltre che dalle fondazioni Le Petite Porte Ragazzi in Gioco dell'associazione La Biblioteca di Sara il progetto è partito lunedì 7 ottobre con il lavoro di 9 docenti dell'istituto comprensivo di Pordenone Sud coduivati da altri insegnanti volontari che dal lunedì al venerdì insegnano da lunedì elementari medie e superiori diverse materie come italiano, matematica, scienze, inglese, musica, tecnologia e arte nell'arco di 18 ore settimanali ore queste che saranno riconosciute dalle scuole di appartenenza ulteriori approfondimenti durante la trasmissione a voi la linea per la prima volta lì è stata accensita l'attività dei centri antiviolenza emerge così che le sei strutture presenti nella nostra regione nell'arco dell'anno vengono contattate da circa 1.400 donne avviando un percorso di assistenza e di protezione nell'80% dei casi di queste il 60% ha figli mentre il 23% è straniera in a voi la linea ci collegheremo in diretta con uno di questi centri per ascoltare la testimonianza diretta delle operatrici che accolgono le donne vittime di violenza quindi a tra poco dopo la pubblicità appuntamento con a voi la linea l'informazione torna in diretta alle 16 e 30 buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti